GKN ha avviato le procedure di consultazione con i sindacati, come disposto nel decreto del Tribunale di Firenze che ha revocato la procedura di licenziamento collettivo. È quanto annuncia l'azienda in una nota, dichiarandosi disponibile a partecipare a tavoli istituzionali sull'avvertenza. GKN Drive Line Firenze, si legge, ha manifestato la totale disponibilità a partecipare agli incontri che le istituzioni riterranno di convocare per lavorare con il sindacato e individuare eventuali soluzioni utili alla gestione della complessa vertenza. L'azienda ha precisa anche che l'obbligo di dare puntuale esecuzione al provvedimento del Tribunale prevede l'avvio della discussione con le parti sociali nei tempi e nei modi previsti dalle norme contrattuali invocate dal sindacato, senza possibilità di estendere la partecipazione a soggetti non indicati nel processo descritto. Intanto la CGL di Firenze attiva un numero telefonico unico 055 27 00 600 rivolto a tutte le lavoratrici e i lavoratori che riceveranno una lettera di licenziamento individuale o che comunque vedranno cessare la loro attività a seguito di una decisione unilaterale del proprio datore di lavoro. Il numero sarà attivo il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle ore 17.30 a partire dal prossimo 27 settembre.